essere informati permette interventi tempestivi diversamente fai fede i termini e alle modalità per avere il reso detto anche restituzione dei beni per i contratti stipulati a distanza il consumatore a 14 giorni di tempo per recedere dall'acquisto tale diritto è esercitabile senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti dalla legge costi supplementari di consegna e o costi di restituzione del bene ad esempio il termine di 14 giorni decorre in caso di acquisti di servizi dal giorno della conclusione del contratto in caso di acquisti di beni dal giorno in cui il consumatore o un terzo da questi designato diverso dal vettore ne viene in possesso a meno che il venditore non abbia offerto di ritirare egli stesso i beni acquistati dal consumatore sarà quest'ultimo a doverli restituire entro 14 giorni da quando ha comunicato la sua intenzione di recedere dal contratto conta in tal senso la data di spedizione quindi non